Ciao ragazzi, oggi siamo venuti al cartodromo di Pomezia. Questa pista è bellissima, se la volete trovare è a Parco 51 di Pomezia. Magari parcheggiate un po' meglio di me perché ho parcheggiato per me il bene ma per gli altri molto male. La retromarcia, devi prendere questo pistante, il poporane accelgo, questo qua è il turbo, hai a tua disposizione 5 secondi. A G, esatto, volo per il torsiero e lo distribuisco in parte, ok? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.